Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui cercherò di raccontarvi alcune caratteristiche essenziali di quelle che sono le statistiche descrittive. Che cosa sono le statistiche descrittive? Sostanzialmente si tratta di una parte della disciplina della statistica che ha lo scopo di andare a definire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un insieme di dati. Quindi sostanzialmente si usa il termine statistica descrittiva sia per la disciplina che poi il risultato. L'obiettivo è quello di dare una sintesi molto limitata e che riduca la quantità di informazioni e non ha nessuno scopo di andare a trovare nuovi dati a differenza di quella che è la statistica inferenziale. Quando parliamo di statistica descrittiva, normalmente quello che dobbiamo andare a fare è andare a caratterizzare il tipo di dato che stiamo trattando, ad esempio andando a descrivere quella che è la scala di misura che ho utilizzata, andare a definire una sintesi del dato, normalmente tramite due informazioni che sono quella che è la tendenza centrale, ovvero il punto in cui si concentrano i dati e le informazioni, e una misura di quella che è la dispersione, ovvero rispetto alla tendenza centrale, quanti i nostri dati sono dispersi o invece piuttosto concentrati. Qualche informazione in più è possibile darla andando a parlare di distribuzione, ovvero di quella che è la forma dei nostri dati. Iniziamo a parlare di quello che è il tipo. Per semplicità quello che facciamo noi è ricondurre i dati alle nostre cinque scale che abbiamo identificato, parlano di teoria della misura, quindi la scala nominale in cui abbiamo delle diverse categorie, in cui spesso si identifica un caso speciale, quello in cui delle categorie sono soltanto due, e allora si parla di dati che sono binomiali, dicotomici oppure booleani. Una scala ordinale e poi quelle che sono le scale continue, intervallo, rapporto e assoluto. Iniziamo a vedere come possiamo sintetizzare i nostri dati, quindi dando un sommario dei nostri dati, partendo da quello che è un semplice esempio. Questi sono le affluenze elettorali nelle 20 regioni italiane e nelle elezioni politiche del 2018. Queste sono le percentuali, tolti ovviamente la parte decimale per semplicità. Se vogliamo andare a rappresentare i dati, un modo di farlo molto semplice è andare a utilizzare quello che si chiama uno strip plot, ovvero un diagramma in cui i dati sono messi tutti su una linea, ognuno nella sua posizione, e nel caso in cui siano presenti più dati che hanno lo stesso valore, questi vengono rappresentati ad esempio andando a impilare uno sopra l'altro. Il primo numero che vogliamo utilizzare per andare a sintetizzare i nostri dati è la tendenza centrale, chiamata anche posizione o location, e lo possiamo fare in diversi modi. Il primo è quello che si chiama la moda, ovvero se io ho tanti valori vado a riportare quello che è più frequente, più comune. Il problema è che molto spesso abbiamo una serie di dati che non sono unimodali, ovvero non hanno un'unica moda, ma hanno invece più mode, ovvero hanno più valori che hanno un'elevata frequenza. Nel caso specifico noi abbiamo tre valori, che sono 72, 75, 77, che sono i più frequenti, perché tutti e tre hanno tre occorrenze. Per cui molto spesso la moda non è un valore unico, ma può essere multiplo. Quindi la moda è utile quando io ho un'unica moda e non ne ho più di una. Un secondo modo di andare a caratterizzare i dati è utilizzare quella che è la mediana. La mediana è calcolata andando a ordinare i valori e poi andando a scegliere un valore che permetta di dividere la nostra serie di valori in due insiemi che abbiano la stessa numerosità. Per cui nel nostro caso abbiamo 20 diversi valori, quindi abbiamo i primi 10 a sinistra della mediana e gli altri 10 a destra. Nel caso di insieme di dati che hanno un numero pari di valori, spesso la mediana viene messa non in corrispondenza di un valore specifico, ma a metà dei due valori che sono uno a sinistra e uno a destra. Un'altra misura della tendenza centrale è quello che si chiama il midrange, che viene calcolato sostanzialmente andando a prendere il minimo e il massimo e poi trovando il valore che sta esattamente a metà dei due. Attenzione, in questo caso 71 è un valore che casualmente appartiene al nostro insieme, ma non è assolutamente detto. Potrebbe essere un valore che non appartiene al nostro insieme, esattamente come la mediana. Mentre invece per la moda, ovviamente la moda o le mode devono per forza appartenere all'insieme di valori che fanno parte del nostro set di dati. E poi abbiamo quello che conosciamo tutti, che forse è quello più comune, e che è la media, ovvero la somma dei valori diviso per il numero di valori stessi. Anche in questo caso la media non è garantito che sia un valore del nostro insieme di valori. Ovviamente oltre alla media, al media aritmetica, abbiamo anche altre medie. Ad esempio abbiamo la media geometrica, in cui sostanzialmente vado a fare il prodotto di tutti i valori, la produttoria elevato a 1 su n, oppure la media armonica, in cui vado a sommare 1 su x e poi elevo tutto alla meno 1 e moltiplico per n. Qual è la scelta tra queste varie misure di tendenza centrale? Un ragionamento che possiamo fare per andare a sceglierne una è quanto l'indicatore è robusto rispetto a quelli che sono gli outlier. Che cosa sono gli outlier? Sostanzialmente sono dei dati, delle osservazioni che sono anomali, quindi sono molto lontani dagli altri e rappresentano dei valori che spesso sono il risultato di qualche errore, ma non necessariamente. Prendiamo un esempio. Andiamo a vedere questi due studenti che hanno conseguito queste serie di voti, quindi John ha preso tutta una serie di voti relativamente passi e poi gli è capito di prendere un 29. Jane ha preso un 18 e poi ha preso una serie di voti che vanno dal 25 al 30. A questo punto chi dei due va meglio? A occhio si potrebbe dire che va decisamente meglio Jane. Andiamo a vedere questi indicatori che cosa ci dicono. Se andiamo a vedere la moda, qui abbiamo 23, qui abbiamo 30 e quindi rispecchia abbastanza il valore. Se andiamo a vedere la mediana abbiamo 23 e 28, quindi di nuovo vedete che i dati sono ordinati. Abbiamo 7 dati, se andiamo a prendere il valore centrale, quello che divide i nostri insiemi di dati in due insiemi uguali, quindi 23 e 28. 28 sta al 100 e 23 sta al 100. Se andiamo a vedere la media abbiamo 23 e 5 e 26 e 7. La differenza in questo caso è molto più ridotta. Perché? Perché sostanzialmente la media è molto influenzata dai valori estremi, per cui questo unico 18 nella serie dei voti di Jane appassa significativamente la media, come pure questo 29 nella serie di John. Quindi lo abbassano e alterano un pochettino quella che è la percezione generale e l'intervallo che invece noi possiamo andare a osservare vedendo i singoli valori. Infine se andiamo a prendere il midrange, quindi l'intervallo tra i due, le cose sono paradossali perché ci ritroviamo che nel caso di John abbiamo 24 e 5, nel caso di Jane 24. Quindi l'indicatore centrale calcolato usando la tating del midrange ci dà un valore più basso per Jane rispetto a quello di John. Quindi perché? Perché sostanzialmente il midrange è ancora più sensibile della media rispetto agli estremi perché sostanzialmente si basa esclusivamente sui valori estremi e quindi gli outlier che sono estremi per definizione influenzano tantissimo questo indicatore. Quindi in generale quello che possiamo fare è andare a utilizzare il tipo di tendenza centrale più adatto ai nostri dati. Spesso possiamo usarne più di uno per avere una descrizione un po' più completa e soprattutto dobbiamo ricordarci che nel caso di alcuni tipi di misure, diciamo quelle ordinali, io non posso utilizzare una media aritmetica ma devo andare a limitarmi a quella che è una mediana. Perché? Perché non ha senso andare a fare operazioni di somma che sono necessarie per andare a calcolare i valori di media. Il secondo aspetto, indicatore che possiamo utilizzare per descrivere un insieme di dati è quella che è la dispersione. La dispersione anche qui può essere calcolata in diversi modi. Possiamo andare a considerare quello che è il range, ovvero la distanza tra il valore massimo e il valore minimo. Quindi nel caso delle nostre affluenze elettorali il range è 16. Possiamo andare a considerare quello che è invece diversi punti che sono chiamati quantili. Un quantile è un valore che permette di andare a spezzare la nostra serie di dati in gruppi in base a quella che è la loro frequenza. Per cui sostanzialmente dato un insieme di valori x grande noi diciamo che il quantile con una certa probabilità p è uguale a x se il numero di valori che appartengono a x, minori che appartengono a x grande, minori di x, diviso la dimensione totale di x è minore o uguale a p, minore o uguale alla probabilità di p e il numero di valori maggiori di x, maggiori uguali di x è maggiore o uguale di p, ovvero sostanzialmente dato il quantile p il numero di valori più piccoli ha esattamente la probabilità p. Molto spesso per comodità o per abitudine si usano quelli che sono i quartili, ovvero quelli che permettono di andare a suddividere i quantili che permettono di dividere la nostra serie di dati in quattro gruppi e sono ovviamente equidistanti, ovvero 25, 50 e 75, quindi il primo quarto dei dati, il secondo, il terzo e l'ultimo quarto, quello più alto dei dati, che corrispondono ai quantili 1, 2 e 3. Il quantile 2, che corrisponde al 50%, se pensiamo a come era descritto prima, sostanzialmente è la mediana, è quello che divide in due sorte insiemi che hanno la stessa probabilità, 50%. A volte si fa riferimento anche al quantile 0 e al quantile 4, che corrispondono ovviamente al minimo e al massimo. Definiti quantili io posso andare a calcolare la distanza tra il quantile 1 e quantile 4, cioè il venticinquesimo percentile e il settantacinquesimo percentile e andare a dire che quella è quella che si chiama la distanza interquartile o interquartile range. Sostanzialmente cosa significa? Significa che la quantità di dati che cade nell'intervallo che ha questa ampiezza, centrato sulla mediana, sostanzialmente è il 50% di tutti i dati, quindi metà dei dati ricadono all'interno di questo interquartile. Un'altra misura è quello che si chiama median absolute deviation, abbreviato in med, ed è sostanzialmente la mediana di tutti gli x meno la mediana del valore, quindi vado a prendere tutti i singoli valori e calcolo la loro distanza dalla mediana e poi prendo la mediana di questi valori. Infine abbiamo quella che è probabilmente quella più comune che è la varianza ed è sostanzialmente la media delle deviazioni quadrate dei singoli valori dalla media dei valori stessi. La varianza è sempre ovviamente un valore positivo essendo una somma di quadrati e ovviamente essendo quadrati il valore della varianza non è direttamente confrontabile con i valori stessi o con la media. Per questo motivo molto spesso invece della varianza si utilizza la sua radice quadrata che viene chiamata la deviazione standard. La deviazione standard non essendo più elevata al quadrato ha dei valori che invece sono confrontabili con i singoli valori del nostro insieme e soprattutto con quella che è la media. Anche in questo caso è un valore che è sempre positivo ed è confrontabile. Molto spesso questo confronto ovvero la deviazione standard diviso la media ci dà quella che è la dispersione normalizzata e ci permette di andare ad apprezzare in maniera un po' più dettagliata quanto i valori della nostra serie di dati sono dispersi rispetto al valore medio quindi in percento quanto possono crescere o decrescere rispetto al valore centrale che in questo caso è assunto essere la media. Andiamo a vedere come posso andare a dare dei sommari del nostro insieme di dati di partenza andando a dare la posizione la dispersione e la dispersione normalizzata andando a utilizzare media e deviazione standard quindi in questo caso 72 quindi qui attorno e 4 come deviazione standard la deviazione la dispersione normalizzata è 0,07 o se volete il 7 per cento parlando di mediana e di median absolute deviation il valore non è molto diverso parliamo di 73 e mezzo e una dispersione di 5 e 19 quindi un po' più grande e un 7 per cento anche qui di dispersione normalizzata. Se parliamo di mediana e di distanza interquartile anche qui la mediana è sempre la stessa la distanza interquartile è un po' più grande e quindi la nostra dispersione normalizzata è intorno al 9 per cento. infine se andiamo a prendere il mid range e il range la nostra posizione è 71 quindi più bassa e la dispersione ovviamente è 16 perché va a prendere sostanzialmente tutto il nostro spettro di valori quindi la distanza da qui a qui è di 16 unità e ovviamente è il 23 per cento quindi molto molto più alta. Quindi vediamo che tutto sommato per una serie di dati che non ha una forma particolarmente estrema che non ha outlier significativi la posizione, le varie misure di dispersione e anche le dispersioni normalizzate sono tutto sommato abbastanza vicine. Quando sono molto distanti significa che i nostri dati hanno una qualche caratteristica o magari hanno degli outlier che soprattutto influenzano tanto media e di viazione standard. Vi faccio un piccolo esempio per enfatizzare quanto sia utile andare a utilizzare non soltanto degli indicatori ma anche una visualizzazione. si chiamano quelli che sono detti i quartetti di ASCOMB e sono sostanzialmente delle coppie di serie di dati ciascune con 11 valori x e y dove per tutti questi quartetti la media di x è 9, la varianza di x è 11, la media di y è 7,5 e la varianza è 4,1 e hanno un indice di correlazione che è 0,8 e sostanzialmente hanno questa relazione y uguale a 3 più 0,5x come regressione lineare. ASCOMB ha identificato 4 diverse varianti che hanno esattamente queste caratteristiche, quindi stessa posizione e stessa dispersione. quindi sostanzialmente i valori, questi sono i valori di y, vengono rappresentati in questo modo, quindi hanno esattamente la stessa media, esattamente la stessa direzione standard, però vedete che sono un po' più dispersi, alcuni sono più concentrati, con qualche outlier, altri sono un po' più distanziati, vedete che sono diversi pur avendo dei valori di indici, di posizione e dispersione esattamente identici. Se poi andiamo a combinare x e y assieme, quello che otteniamo sono dei diagrammi completamente diversi. Abbiamo ad esempio un quartetto che è questo, con i valori dispersi, un altro che è abbastanza dritto con un outlier, un altro insieme di valori che è tutto identico in termini di x e ha un unico valore diverso, e poi c'è questo che segue non una retta ma sostanzialmente una specie di parabola. Questo è per sottolineare l'esigenza di andare sempre a visualizzare i dati e non fidarsi esclusivamente della sintesi data dalla statistica descrittiva, che è utile sicuramente, ma non ci può descrivere completamente i dati. Questi sono invece non più media e mediana, scusate, media e deviazione standard, ma bensì sono mediana e median absolute deviation. Come vedete in questo caso, essendo i valori, questi due indicatori, meno sensibili agli outlier, ci danno dei valori decisamente diversi. Quindi abbiamo 7, 6, 8, 7, quindi notiamo già una qualche differenza. Quindi oltre a visualizzare, un'altra raccomandazione, cercate di usare più indicatori di sintesi che vi permettono di avere un quadro un po' più completo e di avere diversi punti di vista. Come vengono raccolti spesso i dati? Di solito i dati vengono raccolti tramite un campionamento, quindi io vado a prendere da un insieme più generale alcuni esemplari e vado a misurare le loro caratteristiche. Per cui molto spesso si parla di una popolazione che è l'universo di tutte le entità che io posso andare a misurare e di un campione che è un sottoinsieme in cui io vado a applicare le misure. A volte si usa anche il termine di censo per andare a indicare i dati che rappresentano l'intera popolazione. Quindi magari noi abbiamo alcuni dati della popolazione ma siamo interessati a misurarne altri che non sono parte del censo, ma dobbiamo andare a misurare. Quindi in ogni caso, anche avendo i dati del censo, dobbiamo comunque estrarre un campione per andare a fare una misura. Quando abbiamo un campione, molto spesso è necessario andare a differenziare tra due concetti diversi. Quello di parametro, che è una caratteristica della popolazione completa, per cui ad esempio parliamo di media e deviazione standard. Quando si riferisce al parametro, la media si indica con la lettera mu e la deviazione standard con la sigma. Oppure di statistica, che invece è una caratteristica del campione, quindi del nostro insieme limitato di dati. In questo caso, la media indicata con il trattino superiore e la deviazione standard con la S. Perché distinguiamo queste cose? Perché sostanzialmente le statistiche vengono utilizzate per andare a stimare quello che è il parametro, cioè la caratteristica generale della popolazione. Quindi io vado a prendere un insieme di persone, misuro che sono la loro altezza e vado a inferire che l'altezza media della popolazione generale corrisponde alla media che io ho misurato nel mio campione. Per cui cosa faccio? Di solito assumo che la media della mia popolazione corrisponda grossomodo alla media del mio campione, quindi la somma dei valori è diviso n. Per quanto riguarda la deviazione standard, invece, assumo che la deviazione standard della mia popolazione sia leggermente più grande della deviazione standard del mio campione. Perché? Perché sostanzialmente un campione è ridotto rispetto alla popolazione e quindi statisticamente ci si aspetta che la deviazione standard del campione sia leggermente minore della deviazione standard della popolazione intera. Per cui si usa questo fattore di correzione n diviso n-1 che viene chiamata la correzione di Bessel che viene utilizzato per andare a passare dalla deviazione standard del campione alla deviazione standard della popolazione intera. Quindi molto spesso quello che si fa è andare a dividere la nostra somma dei quadrati per n-1 invece che per n. Come vedete, nel passare dalla deviazione standard del campione S alla deviazione standard della popolazione, si moltifica per un valore che è leggermente maggiore di 1 e tanto più n è grande, tanto più questo valore si avvicina a 1. Con n abbastanza piccoli, questo valore invece tende a essere abbastanza più grande. immaginate n uguale a 2, abbiamo 2 diviso 1, quindi è la radice quadrata di 2, vuol dire che la deviazione standard della nostra popolazione è un 40% più grande della deviazione standard del nostro campione. Queste inferenze, quindi andare a dire che la media della nostra popolazione è sostanzialmente uguale alla media del campione, che la deviazione standard è sostanzialmente rigarabile alla deviazione standard del campione, ha senso se il nostro campione possiamo assumere che sia stato estratto in maniera assolutamente casuale dalla nostra popolazione. È chiaro che se io vado a prendere un campione utilizzando un criterio che non è puramente casuale, è molto probabile che questa inferenza delle parametri a partire dalle statistiche non sia più valida. Se voglio andare a descrivere in maniera più dettagliata quello che è il mio campione di dati, il mio insieme di dati, spesso vado a descrivere quella che è la distribuzione, ovvero la probabilità in generale di avere un certo valore. Molto spesso si parla di distribuzione quando si parla di variabili casuali, però la distribuzione può essere anche espressa andando a osservare un campione e immaginando che quello sia estratto dal campionamento di una variabile casuale. È bene andare a distinguere quelle che sono distribuzioni discrete e continue. Un modo molto semplice di andare a descrivere un campione tramite la sintesi o il sommario a cinque numeri, andando a definire quelli che sono i nostri cinque quantili, q0, q1, q2, q3 e q4, quindi il minimo, il massimo, la mediana, il quartile inferiore e il quartile superiore. A partire da questi cinque numeri di sintesi è possibile andare a disegnare quello che è un boxplot, che rappresenta per l'appunto in basso il minimo, il massimo, in mezzo la mediana e poi i due estremi della scatola, del rettangolo, i quartili inferiore e superiore. Il vantaggio di un boxplot è che permette di esprimere in maniera grafica questa sintesi a cinque numeri ed è facilissimo da disegnare. Infatti è stato proposto da Juntaki in un momento in cui la generazione di grafici spesso veniva fatta a mano senza particolari calcoli. Posso andare a definire anche misure di forma, in particolare quelle che si chiamano schiunes e kurtosis, ovvero la schiunes è l'assenza di simmetria, la kurtosis invece è quanto la distribuzione è concentrata attorno al valore centrale, oppure è più piatta e distribuita. Parliamo di schiunes negativa, assente o positiva e quindi abbiamo delle distribuzioni che sono spostate o deformate verso sinistra o verso destra. Quando abbiamo delle distribuzioni che sono skewed il risultato è che media, mediana e moda non coincidono, mentre invece in caso di distribuzioni perfettamente simmetriche queste tre misure di posizione centrale invece coincidono. Quando parliamo di kurtosis invece andiamo a confrontare la nostra distribuzione con quella che è la distribuzione normale gaussiana e quando la distribuzione è analoga a una normale, diciamo che abbiamo una distribuzione che è mesocurtica, se abbiamo una distribuzione molto più allargata è leptocurtica e se invece è molto incentrata attorno al valore centrale, la media, invece diciamo che è platicurtica, quindi molto a punta. Quando abbiamo invece a che fare con le distribuzioni discrete quello che possiamo fare è andare semplicemente a contare le frequenze delle singoli valori all'interno di una misura. Spesso ordiniamo questi valori in maniera crescente o decrescente oppure usando un qualche criterio e possiamo andare a utilizzare quella che è la frequenza relativa, chiamata proporzione, che quindi viene spesso rappresentata come una percentuale, oppure andare a rappresentare anche come informazione aggiuntiva quella che è la frequenza cumulativa. Per cui, ad esempio, i dati che riprendiamo qua sono i dati presi da un questionario che riporta abitudini relative al fumo, quindi abbiamo persone che non fumano mai, 189, persone che fumano occasionalmente 19, in maniera regolare 17 e in maniera molto frequente 11. le proporzioni quindi sono 0,8, 0,08, 0,07, 0,047. Ovviamente poi possiamo esprimere in percentuale dicendo che sono l'80%, l'8, il 7% e il 4,7%. Possiamo anche andare a regolare quella che è la distribuzione cumulativa, quindi andando avanti passiamo dall'80 all'88, al 95 fino al 100% con l'ultimo. e quindi possiamo andare a riportare quella che è una distribuzione cumulativa usando quello che è un diagramma di Pareto, ovvero un diagramma che riporta le singole frequenze e la frequenza cumulativa come una linea sovrapportata. Con questo noi abbiamo sostanzialmente fatto una sintesi molto breve di quelli che sono i principali indici che possiamo andare a utilizzare per descrivere in maniera statistica e sintetica dei dati e come possiamo andare a caratterizzare quella che è la distribuzione dei dati ricordandoci però che sebbene questi indici di sintesi siano molto utili per andare a descrivere in maniera molto sintetica per l'appunto i nostri dati è bene ricordarsi di andare sempre a visualizzare i dati perché come l'esempio dei quartetti di ASCOM suggerisce gli indici possono dirci che insieme di dati sono esattamente identici ma se poi andiamo a visualizzarli graficamente ci accorgiamo che ci sono delle profonde differenze. Quindi usiamo gli indici, magari più di uno ma ricordiamoci sempre di andare a visualizzare i dati.